Ciao bambini e bentornati sul canale! Oggi giocheremo con il porcospino Bing e per questo ho chiamato 5 amici speciali ovvero Sula Ciao bambini! E i nostri amici Buffy Cats Ciao a tutti! Allora ragazzi, siete pronti a giocare insieme a Bing? Oh sì, prontissimi! Ma come si è travestito? Beh, lo abbiamo trasformato in un porcospino e se volete scoprire come abbiamo fatto dovrete guardare il video fino alla fine Oh che spasso! Ma in cosa consiste il gioco? Oh è davvero molto semplice Lampo A turno dovrete tirare il dado e in base al numero che uscirà dovrete premere il nasino di Bing E cosa succederà? Beh, molte volte non succederà niente ma ogni tanto questi piccoli dardi di spugna salteranno in alto e voi dovrete prenderli tutti quanti Oh sarà molto divertente! Eh sì Polpetta! E ovviamente chi ne prenderà di più sarà il vincitore Forte! A che punteggio dobbiamo arrivare? Mmm, diciamo che dovrete prenderne almeno dieci Dieci? Ma sono tantissimi! Oh vedrai Pilu sarà molto veloce come gioco Se lo dici tu Allora ragazzi, siete pronti a cominciare? Oh sì sì certo! Allora Sula comincerai proprio tu Vieni a tirare il dado Arrivo! Allora vediamo Oh partiamo bene è uscito il numero due Dunque vediamo Uno E due Questa volta non è successo niente Adesso ci provo io Oh Sono uno Proviamoci No Niente anche per me Vediamo se io sono più fortunata Oh no Salto il turno Mi dispiace Milady La fortuna non è dalla tua parte Eh già Peccato Beh vorrei dire che ci provo io Wow Due Allora Uno E due No No niente Vediamo adesso Oh evviva due Anche per me Uno E due Oh Forza ragazzi Prendeteli tutti Oh sì sì Dai dai Prendiamoli Eccoci Eccoci Oh io voglio questo viola E questo arancione Ecco qua Ce ne sono due da soli Bravissimi ragazzi Siete riusciti tutti quanti A prenderne due Tranne Polpetta Che ne ha preso solamente uno Oh peccato Ma recupererò in fretta Ok Allora Ricominciamo Allora Vediamo quale numero uscirà Uno Ecco qui Proviamo Niente Ci riprovo io Oh no Salto il turno Anch'io Uffa Beh speriamo questa volta Di riuscire a giocare Ah Beh Almeno uno Uno Mmm Niente Vediamo io Oh no Devo saltare il turno Anch'io Proviamo Due ancora Evviva Allora Uno E Due No Questa volta Non sono saltati Riproviamo Uno No Nemmeno a me È saltato E adesso Il mio turno Due Evviva Ho recuperato Uno Alla riscossa Prendiamoli Oh Io prendo questi due Qui dietro ce n'è uno Oh Io voglio questi E io prenderò questi Anche questa volta ne avete presi due a testa Tranne Pilù che ne ha presi solamente uno Quindi Sula Milady E Lampo Sono a quattro punti Mentre Pilù E Polpetta Sono solo a tre Beh Polpetta Dobbiamo recuperare Altro giro Altra corsa Vediamo Oh no Non è possibile Salto il turno Questo vuol dire Che tocca a me Due Una E due Niente da fare Ci riprovo No Salto il turno Anch'io Che peccato E adesso provo io Uno Uno No niente Vediamo se ho ancora un po' di fortuna Uno solo No Questa volta niente fortuna Riproviamo Uno solo anche per me Ecco qui Oh Polpetta impegnati Prendine tanti Oh Io ho questi due qui davanti Anch'io ne ho due Oh Questi li frego io a Milady Beh a me ne rimane solo uno Allora vediamo Ne avete presi anche questa volta due a testa Tranne Milady che ne ha preso uno Quindi siamo Sei punti per Sula Cinque punti per Polpetta Cinque punti per Milady Sei punti per Lampo E cinque per Pilù Beh Lampo e Sula sono vicini al traguardo Chissà chi riuscirà a vincere Lo scopriremo solo andando avanti Allora vediamo Wow Due Uno E due No niente Due anche per me Uno E due Oh Alla riscossa Prendiamoli Oh Io prendo questi due Qui dietro ce n'è uno Oh Io voglio questi E io prenderò questi Wow ragazzi Questa volta Sula Ne ha presi addirittura tre Pilù e Lampo Solamente uno Mentre Milady e Polpetta Due Quindi la nostra Sula Arriva a nove punti Ancora uno E sarà la vincitrice Pilù arriva a sei Polpetta a sette Milady a sette E Lampo a sette Beh è proprio vero Sula in vantaggio Ma adesso ricominciamo Un nuovo turno Vediamo adesso Oh Evviva due Uno E due No niente Chissà cosa esce a me Oh no Devo saltare il turno Riproviamo Due Uno E due Niente Vediamo Vediamo Salto il turno Anch'io Ci provo Ancora io Due Evviva Uno E due Uffi Questa volta Non è andata bene Due Sì Che fortuna Uno Oh Devo prenderne Più di Sula Assolutamente Oh Qui ce ne sono due Anche qui Anche qui Vabbè Ne è rimasto solo uno Bene ragazzi Siete riusciti Tutti quanti A prenderne due Tranne Sula Che ne ha preso uno Adesso Facciamo i conti Allora Polpetta va a nove punti Lampo va a nove punti Pilua otto Miledia nove E la nostra Sula Anche se ne ha preso solamente uno Arriva a dieci punti Quindi è la vincitrice Di questo fantastico gioco Yuppi Evviva Uffa per un pelo Sei stata bravissima Sula Già Che fortuna Oh Io anche se non ho vinto Mi sono davvero divertita Un sacco Sono davvero felice Pilu E voi ragazzi Vi siete divertiti Ma certo Era uno spazio Riuscire a prendere Tutti questi dardi Allora Bambine Avete visto come sono felici I nostri amici Di aver fatto questa sfida Ricordate che se volete Scoprire come abbiamo Trasformato Bing In un porcospino Dovrete continuare A guardare questo video A guardare questo video Allora bambini avete visto come è stato semplice trasformare i binghi in un porcospino? Se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace E se non lo avete ancora fatto cliccate qui per iscrivervi al canale Mentre se volete vedere tantissimi altri video cliccate qui E noi ci vediamo prestissimo Ciao bambini